Novi edifici legati all'area sacra, tra età arcaica e classica e una struttura che al momento sembrerebbe un piccolo tempio, pari a circa due terzi del Tempio R. Sono queste le ultime scoperte legate alla campagna di scavi in corso al Parco archeologico di Selinunte da parte della New York University e dell'Ateneo di Milano. Le indagini riguardano il grande santuario urbano sull'acropoli e la missione ha individuato il grande accesso monumentale a nord-ovest, un ambiente con un pozzo circolare, diversi oggetti, monete e una struttura che parrebbe condurre a un tempietto non ancora conosciuto, non molto grande e privo di colonne. E intanto domenica verrà presentato il primo numero degli annali di Selinunte, pubblicazione editoriale a cura del Parco, in collaborazione con l'Alitos, che renderà note a cadenza annuale le relazioni sulle operazioni archeologiche e sui risultati scientifici raggiunti. In questo primo numero in particolare sono descritte le operazioni scientifiche condotte alla foce del Gorgo Cottone sui rinvenimenti dell'antico porto orientale in cui fu ritrovata a fine 2023 la splendida Sima Leonina, un reperto o ancora tutto da studiare.